Allora, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alle cantine della riva, buonasera, gentile richiesta, questa sera sono tornati con noi i poveri di sodio, andiamo a presentarli ormai sono famosi in tutta l'Italia e tutto il mondo, penso, allora, cominciamo a presentarli subito alla batteria, il Grezza, che è anche il nostro massaggiatore ufficiale delle birre al basso e alla voce il nostro fonico, il Kug, alla chitarra e alla voce Dado, e alle testiere il grande rebbe che questa sera compi gli anni, e alla voce Dado, e alla voce Dado, a Rubicang. Volevo ricordare anche un applauso alle nostre due ragazze che girano in sala, le due venine, Patti e Uliana, con la Bora, compi gli anni oggi, magari vi faccio un po' di lungo, e vedo anche una signora di sui palco che colla con la gamba un po', la signora Rosanna, mi dedichiamo al spettacolo, il marito ha tentato di eliminarla ma non c'è riuscito, sono la gamba rotta, vi lascio ai poveri di sodio con una serata e un po' di ripetimento a tutti. Siamo un amico, la signora Rosanna, con la Bora, compi gli anni, e magari vi faccio un po' di ripetimento, e ogni anno si trasconde in un'articline, con i tuiti di te va, lo entro l'estale, il mercato che spi va e va. Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.